Ciao a tutti. Se sei interessato, per favore dammi un pollice in su perché è gratuito. Il bene per Romina Power. Dopo anni di turbulenze ed incomprensioni e un divorzio sofferto alle spalle, Albano e Romina hanno oggi ritrovato l'equilibrio e la serenità. Il loro rapporto è migliorato tanto che i due hanno deciso di risalire di nuovo sul palco insieme, proprio come ai vecchi tempi quando, felici ed innamorati, cantavano emozionati il loro amore. L'artista pugliese è ritornato a parlare, sulle pagine di oggi, di questo legame che il tempo ha scosso, ma non distrutto, cantare con Romina mi piace ancora. Perché tutto è rimasto come un tempo. Il tempo della felicità si è fermato, c'è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare. L'ex coppia è pronta a ritornare sui palcoscenici con una nuova canzone scritta appositamente per loro da Cristiano Malgioglio e si prepara ad una tourne in Australia. È un brano al quale ancora stiamo lavorando ed è in fase di mixaggio, ha detto Albano. Romina Power sta vivendo un periodo particolarmente felice. L'ex attrice americana è diventata di nuovo nonna. La figlia Crystal Carisi ha infatti dato alla luce la sua secondogenita, nata dal matrimonio con l'imprenditore di origine croata Dave Erluxic. Il suo nome, ancora oggi, è inevitabilmente legato a quello dell'ex marito, il cantante di Cellino San Marco Albano. In un'intervista rilasciata un po' di tempo fa, la cantante è ritornata a parlare della fine della sua storia d'amore con il pugliese. Un addio molto sofferto e doloroso. Io il divorzio l'ho vissuto malissimo, come una sconfitta. Perché credevo molto nel matrimonio. In fondo il mito di Albano e Romina è nato perché noi due volevamo cantare insieme, fare insieme le turne, condividere ogni cosa. Però i miei figli mi sono stati molto vicini. L'amore per sua mamma. Albano ha aperto completamente il suo cuore a Giovanni Ciacci, che l'ha intervistato per il settimanale Oggi. Raccontandosi, ha dichiarato di essere innamorato, ma nessuna donna all'orizzonte, posso dire di essere profondamente innamorato. Lo sono dei miei figli, della vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni. La verità su Romina Power. I nostalgici e gli eterni romantici sperano ancora in un nuovo inizio tra Romina Power e Albano, gli ex coniugi che per anni hanno incarnato il mito dell'amore. Il pugliese ha voluto fare chiarezza sui rumors che di tanto in tanto si inseguono rispetto a presunti ritorni di fiamma. Ho la mia età e quindi per me la stagione degli amori è passata, punto la verità su Romina Power. In un'intervista rilasciata a DiPiù TV, il cantante di Cellino San Marco si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla sua ex compagna, e sui rapporti che oggi intercorrono tra di loro.